E' tornato sulla panchina della Battipagliese mister Vincenzo Fusco che ha già messo sotto torchio i suoi uomini per cercare subito di vincere la gara di domani contro il Costa d'Amalfi e il suo esordio tra le mura amiche del Pastena. A dirigere la gara tra Battipagliese e Costa d'Amalfi in programma domani alle 14.30 nello stadio Battipagliese e valevole per la 19esima giornata del campionato di eccellenza Girone B è stato disegnato il signor Antonio Savino nella sezione arbitrale di Torre Annunziata a coadiuarlo sono stati chiamati Raffaele Cicere di Caserta e Orazio Nicodemo di Sapri l'intera a Terna e all'esordio con la Battipagliese. Domani sarà anche il Pasquale Leonardo dei.